Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Prima di iniziare voglio ringraziare lo sponsor di questo video, ossia HelloFresh. Vi ho già parlato di questo fantastico servizio e ve lo ripropongo perché mi sono innamorata di HelloFresh. HelloFresh è un servizio che vi permette di ricevere direttamente a casa vostra una box con tutto l'occorrente per preparare piatti gustosi e sempre diversi. Sciogliete le ricette ed HelloFresh vi consegna direttamente tutto a casa con tutti gli ingredienti. La scuola sta per rincominciare e con HelloFresh sarà ancora più semplice. Non dovrete cervellarvi per trovare delle ricette varie da cucinare perché a casa vi arriverà la box con tutti gli ingredienti già porzionati che avete scelto per i vostri piatti. Insieme agli ingredienti tra l'altro troverete un foglio per seguire le ricette da eseguire passo a passo. Potete stupire i vostri bambini con delle fantastiche cene per tutta la famiglia. Con HelloFresh tra l'altro avendo gli ingredienti già porzionati eviterete gli sprechi, cosa a mio avviso molto importante. Infatti ho già ordinato un'altra box. Se volete ordinare una box anche per voi vi lascio il link in descrizione e anche un commento pinnato in alto. Inserite la vostra email e utilizzate il mio codice sconto OCCIO65. Avrete anche 65 euro di sconto. Quindi che aspettate? Andate sul sito, inserite il mio codice e buon appetito! Detto questo iniziamo subito. Oggi sono qui per parlarvi di un caso che avrei voluto affrontare da tempo. Ma dato che talvolta divento alquanto puntigliosa, volevo avere a disposizione il tempo necessario per prepararvi un video come si deve. Parliamo dunque di Pietro De Negri, balzato agli onori della cronaca come Ercanaro della Magliana. Vi racconterò la versione di Pietro e poi quella che gli inquirenti hanno tenuto indagando. Sappiate che vi leggerò anche un memoriale che lo stesso Pietro ha scritto in prigione. Credo sia incredibilmente interessante riuscire a entrare in possesso di un materiale così prezioso. Ovviamente con lo scopo di creare un video più completo possibile. Quindi partiamo proprio da lui, da Pietro De Negri. Nasce a Calasetta, un comune italiano della provincia del sud della Sardegna, il 28 settembre 1956. Fa parte di una famiglia numerosa Pietro. Ha nove fratelli. Suo padre è un imprenditore edile, onesto e rispettato. Tutti in Sardegna lo conoscono e si fidano di lui. Poi purtroppo da un giorno all'altro viene a mancare a causa di un tumore. Pietro a quel tempo è molto giovane e frequenta il collegio. C'è da dire che con l'aggravarsi della malattia di suo padre, il benessere della famiglia De Negri, piano piano, stava già scemando. Sua madre infatti aveva lasciato amministrare i loro beni a un amico di famiglia che, alla fine, se ne era appropriato riducendoli sul lastrico. La famiglia De Negri era già allo stremo poco dopo il funerale, infatti lo stesso Pietro chiude baracche Burattini e prende il traghetto per partire con sua madre. Si stabiliscono a Roma, poi sua madre raggiunge una cugina a Reggio Emilia, mentre Pietro si arrancia trovando una piccola stanza in affitto. Pietro aveva sognato a lungo di vivere a Roma, la considerava la capitale delle opportunità. Così, nei mesi successivi, alterna gli studi intrapresi alla scuola serale per conseguire la licenza media ai più disparati lavori per sostenersi. Fa l'elettrauto, il falegname, il gommista, poi lascia la stanza in affitto e inizia il servizio militare come allievo sotto ufficiale a Viterbo. Viene più volte punito dai superiori per le risposte che dà quando lo riprendono, quindi gli infliggono diverse punizioni, gli limitano le libere uscite e le licenze. Come già gli era accaduto in precedenza, Pietro durante il servizio di leva non si trova bene. Non sopporta chi sta al comando, quindi si congeda prima di finire il corso e torna a Roma, in via della Magliana, un nuovo quartiere a ridosso del Tevere. È una sera di novembre quando Pietro nota alla fermata dell'autobus una donna mora che porta a spasso il suo cagnolino. Pietro ama gli animali, soprattutto i cani. Sa che non sono capaci delle cattiverie degli uomini, ma soprattutto sono fedeli perché i cani tornano sempre dal padrone. A questo punto, grazie a un vecchio amico di suo padre, ottiene un posto all'Enel. Col primo stipendio compra una Honda che paga a rate. Appena esce dal concessionario, torna alla fermata dell'autobus proprio dove aveva visto quella donna col suo cagnolino. Gira lungo nei dintorni della fermata fino a quando la mattina seguente, verso ora di pranzo, la vede e si avvicina. Fisca il suo cagnolino che gli va incontro. I due si sono entrambi appena trasferiti alla Magliana, non hanno amici e sono entrambi in cerca di affetto. Paola, così si chiama lei, Pietro la descrive come bella e giovane. Utilizza quotidianamente quell'unica linea del bus per recarsi a Monteverde dove fa i servizi presso alcune famiglie. Pietro e Paola condividono l'amore per gli animali, ben presto, si mettono insieme. Pietro ama anche la musica e solito attraversare tutta la città per comprare dei dischi vicino a Piazza del Popolo. Compra anche un giro a dischi e per questo motivo, per un mese intero, mangia solo patate, perché non ha più soldi. La Magliana inizialmente era una campagna che ospitava soltanto qualche capanna di pastori. Poi ecco che arrivano le gru e nel giro di cinque o sei anni diventa uno dei soborghi più grandi della capitale. Piano piano le persone si spostano in questo quartiere, si effettuano traslochi continui perché nell'aria si respira il cambiamento. C'è euforia per il futuro, per la casa nuova, per la possibilità di formare una famiglia in quel quartiere. Eppure quel quartiere in sé non è un granché, alcune case vengono occupate abusivamente, sono presenti solo un ufficio postale e una chiesa che, peraltro, si trova dietro alla saracilesca di un garage. Poco più avanti stanzionano un piccolo camper chiamato Magliana 80, distribuiscono siringhe pulite per le persone con problemi di dipendenza. La verità è che alla Magliana a quel tempo non c'è niente, neanche una scuola. Ci sono però bische, bar e qualche palestra. C'è solo una linea di bus, il 97, che porta al centro di Roma. Quel bus si ferma dove, per l'appunto, Pietro incontra la sua futura moglie. Pietro è solo alla Magliana e, a dirla tutta, vuole dimenticare la sua provenienza, vuole essere parte di quell'immagine in costruzione della periferia romana. Vuole essere parte di quel quartiere. Così inizia a frequentare delle bische un uomo detto Il Mancino. Quest'ultimo ha una sorella in Sardegna e Pietro, essendo proprio di quelle parti, riesce ad avvicinarsi e a diventarne amico. La bisca, peraltro, si trova in piazza e sostituisce la scuola, in pratica. Pietro, in questo ambiente, impara che al mondo si è soli. Nessuno si preoccupa di guardarti le spalle. Impara anche che chi è solito alzare le mani una volta lo fa anche una seconda e chiunque viene colpito in faccia va al tappeto. Il Mancino fa conoscere a Pietro la merce, ossia la polverina bianca. Mentre consumano la sostanza, il Mancino racconta a Pietro la sua storia di quando la Magliana era tutto un acquitrino e lui era già lì che mangiava ranocchie arrostite mentre sua madre faceva la passeggiatrice. Poi era arrivato Franco Giuseppucci, detto anche Erfornaretto, il primo boss, oltre che uno dei suoi membri fondatori dell'organizzazione criminale romana, passata alle cronache come la banda della Magliana. Costui aveva sommerso la Magliana e tutta Roma di polverina. La vita del Mancino, a questo punto, era cambiata. Aveva comprato due biliardi per la bisca e un jukebox, aveva ristrutturato il bancone e comprato il televisore più grande disponibile. La merce, in effetti, era in grado di trasformare un ragazzo di strada in un piccolo borghese e di catapultare un piccolo borghese nelle insidie di un ragazzo di strada. Per Pietro non è affatto facile conquistare l'attenzione e la fiducia di quel quartiere, in cui non era nato, ma in poco tempo si rende conto che nessuno è realmente nato lì. Quasi tutti, come era accaduto a Pietro, erano finiti lì per necessità. Così, in poco tempo, Pietro si sistema in una casa popolare con Paola. All'Enel Pietro fa il suo lavoro e, inoltre, lavora anche per altri tre soggetti che lui stesso definisce scansafatiche che campano sulle sue spalle. A Mensa mangia sempre da solo, rimane non più di venti minuti e poi torna al suo posto. Un giorno, in Mensa sente uno di quei tre soggetti scansafatiche che, ridendo, dice «È stato assunto tramite una raccomandazione». Quelle parole sono sufficienti per Pietro. Si licenzia. La madre di Pietro viene a mancare poco dopo essere giunta a Reggio Emilia, ma lui non va neanche al funerale. In realtà, quella perdita, invece di trafiggerlo, lo rinforza. Pietro chiude così definitivamente con il passato e pronto a costruirsi una famiglia tutta sua. Così, l'uomo chiede a Paola di convolare a nozze pochi mesi dopo il loro incontro. La donna accetta e, di lì a poco, rimane incinta. Pietro ora ha una priorità. Guadagnare abbastanza soldi per garantire quantomeno una stabilità economica alla sua famiglia. Fortunatamente trova ben presto un impiego come rappresentante di commercio. A questo punto è felice, prende quell'impegno di lavoro molto seriamente e ci si dedica anima e corpo. O almeno ci prova. Anche questo lavoro, però, a breve durata, dopo soli quattro giorni di assunzione, mentre è in viaggio accompagnato dall'ispettore che si occupa delle sue vendite, si ritrava ad ascoltare discorsi che non gli garbano affatto. Avrebbe dovuto comportarsi bene, senza alzare la voce, senza perdere le staffe. E fin qui, tutto ok, ma soprattutto, si sarebbe dovuto comportare con deferenza. Pietro non è mai stato ruffiano, quindi il loro rapporto si conclude presto. Pietro lo insulta e quindi perde il lavoro. Paola, quella sera, quando Pietro era in casa, ci mette un secondo a capire che si è licenziato di nuovo e scoppia a piangere. Così Pietro dice quella frase che cambierà tutta la sua vita. Io vado a rubare. Intanto, però, Pietro pensa che vorrebbe aprire un'attività in cui nessuno possa dirgli cosa fare. Come detto, lui ama immensamente i cani. Così, inizia a pensare di aprire una tua elettatura per cani. Per lui significherebbe realizzare il sogno di una vita. Ma per aprire quell'attività ha bisogno di soldi, soldi che non possiede. Pietro ormai ha capito da chi è popolato il luogo in cui vive. Certo, ci sono brave persone, ma anche persone che per ristrettezze economiche e opportunità di soldi facili hanno iniziato a rubare e a fare i corrieri delle sostanze. Così Pietro inizia a fare uso della polverina. All'inizio è un semplice modo per essere accettato dagli altri. In quel periodo in molti hanno lo stesso vizio, ma Pietro lo tiene a bada, tanto che riesce a non farsi mai scoprire da sua moglie. Così, per una settimana circa, continua a pensare al tipo di reato che gli avrebbe permesso di raccogliere un bel gruzzolo. Poi, il mancino, colui che gli dà la polverina, gli presenta un gommista. Se Pietro gli avesse portato le ruote che gli chiedeva il gommista, sarebbe stato pagato puntualmente a ogni consegna. In precedenza Pietro non ha mai rubato nulla, ma non si tira indietro. Con un cric solleva le auto e le adagia su dei mattoni. Poi nel giro di tre minuti riesce a sfilare tutte e quattro le gomme. Pietro compie furti in cui si appropria solo di cose che sa avrebbe venduto pochi istanti dopo. Non è un gran rischio. La notte è sempre in giro. Lavora da solo e a lui va bene così. Paola dal canto suo prova sempre a combattere le, chiamiamole, deviazioni di Pietro. L'uomo la descrive come una donna pura, come la sua salvezza. Paola infatti non vuole che Pietro vada a rubare, quindi l'uomo non le racconta come si procura il denaro. Per un breve periodo finge anche di lavorare come guardione in un parcheggio, invece passa la notte a rubare. Così, piano piano, riesce a guadagnare abbastanza soldi per aprire il negozio di toilettatura per cani. Il negozio si chiama Mambi Lavaggio Cani e si trova su via della Magliana al civico 253, a pochi passi dalla fermata del bus 97. Col tempo riesce a farsi una vera e propria cultura medica in quel campo. Fornisce servizi gratuiti da alcuni veterinari di Monteverde. È un gran lavoratore e ben presto impara a curare i cani. Nonostante non avesse studiato, aiuta i veterinari anche durante interventi delicati, fino a quando non si rende conto che è in grado di operare da solo. Esegue in autonomia interventi chirurgici alla coda e agli orecchie di molti cuccioli con ottimi risultati. Salva cani, spesso gratuitamente, solo per donare qualcosa agli altri e per l'amore che nutre per gli animali. In quei mesi nasce anche sua figlia. Alla Magliana il bisogno di essere accettato per Pietro diventa importante. Ecco perché mette le sue capacità manuali al servizio degli altri. Lo chiama il fornaio quando le serrande si bloccano. La signora che vive sopra il negozio di tua elettatura chiede spesso i suoi servigi. Aiuta il portiere dello stabile a innaffiare le uole. Col portiere però Pietro ha qualche screzio. Fino a quando un giorno lo attacca pesantemente. Pietro non sopporta di essere rimproverato subire paternali. E il portiere le paternali gliele fa spesso. Il volume alto dello stereo, la macchina parcheggiata male, i cani che abbaiano. Un giorno quel portiere rimprovera Pietro davanti a sua figlia e lui non riesce proprio a trattenersi. Così gli dà uno spintone. Poco dopo da lui va il figlio del portiere, arrabbiato perché aveva aggredito suo padre. Lo colpisce ripetutamente. Pietro lo lascia sfogare. Il figlio del portiere gli rompe un dente. Solo in seguito Pietro cerca di spiegargli le sue ragioni. Così alla fine si scusano a vicenda e si stringono la mano. Il sogno di Pietro e Paola si realizza. Aprono il negozio di toilettatura per cani. Lavorano molto, soprattutto in primavera e in estate. Ma d'inverno i proprietari sono poco inclini a lavare i cani. Quindi il lavoro cala. Ogni volta Pietro è tentato di tornare dal gommista per riprendere con qualche furto. Ma Paola gli fa capire che se l'avesse fatto avrebbe perso la serenità conquistata e quella sarebbe diventata l'unica soluzione per affrontare ogni difficoltà economica sopraggiunta. Il problema è che ora Pietro ha un brutto viziaccio, ossia assume la polverina praticamente tutti i giorni. Così conosce Giancarlo Ricci detto Erpuggile. Un giorno nel suo negozio alla Magliana entra Giancarlo Ricci, un pugile che aveva disputato una manciata di incontri. Era un dilettante ma sapeva usare le mani e quando le usava faceva male. Giancarlo vive nel quartiere, entra nel negozio di toilettatura con la scusa di far lavare il suo cane, un pastore tedesco. Pietro lo ha già incrociato alcune volte dal mancino in quanto a entrambi piace particolarmente la polverina. Di lui Pietro sa lo stretto necessario, è un prepotente disposto a tutto pur di raccimolare quattrini per la merce. Gira con un'alfa Giulietta 1600 bianca e ha una moto rarissima, ossia la bimota. Pietro sa anche quello che si racconta di lui in giro. Il pugile è descritto come un vero e proprio infame che in passato per salvarsi non aveva esitato a chiacchierare con la polizia facendo nomi e cognomi. Si sa che è continuamente pedinato da sua madre, Vincenzina, che vuole metterlo in riga. Vincenzina è una donna di carattere, cerca di salvare suo figlio dalla strada, per questo gli aveva trovato un posto di lavoro come Netturbino e una casa a Monteverde. A Pietro il pugile non piace, gli incute timore per i suoi metodi di fare e per la sua stazza, ma a unirli c'è qualcosa, la polverina bianca. La sostanza unisce le persone nelle differenze, le rende diverse ma perfettamente uguali, meschini e assetati. Il pugile va più volte al negozio per far lavare il suo pastore tedesco. I due entrano così in confidenza e iniziano a usare la merce insieme nel retro di pomeriggio mentre i cani vengono asciugati nelle gabbie ventilate. A Pietro continua a non piacere il pugile, ma come sostiene lui stesso preferisce stargli a fianco che davanti. In pratica ha paura di lui. Un giorno Giancarlo entra nel negozio di toilettatura dicendo a Pietro che gli vuole proporre un affare. Ha un piano, rapinare la bottica attigua al suo negozio in quanto vi sono stipati capi di abbigliamento per oltre 100 milioni di lire. Il mancino gli aveva detto che in passato Pietro non si era tirato indietro davanti alle richieste del gommista, che diventare suo complice non sarebbe stato un problema per lui. Per farlo, in base al suo piano, il pugile passerà proprio dalla toilettatura per cani del canaro, aprendo un foro nella parete. Pietro si oppone, lo manda a quel paese in tono scherzoso, pensa alle parole di sua moglie, ma soprattutto ha paura, non vuole mettersi nei guai proprio ora che le cose sembrano aver preso la giusta piega. Inoltre, il proprietario della boutique è lo stesso del negozio locato da Pietro. Quest'ultimo non è d'accordo, anche perché pensa che il proprietario del negozio non meriti di essere derubato. È sempre stato buono con Pietro, lo ha aiutato, gli è andato incontro, soprattutto nel primo periodo di apertura della toiletta, quando faceva fatica a pagare l'affitto. Il pugile e Pietro discutono a lungo, mentre quest'ultimo si tiene a una certa distanza. Pietro non vuole tornare a rubare e sa che il suo coinvolgimento nel crimine sarebbe presto risultato lampante. Appena conclusa la discussione, Pietro inizia ad asciugare il cane del pugile, quando sente un colpo fortissimo alla schiena. Il pugile continua a colpirlo con vemenza, mentre Pietro è a terra, minacciandolo che sarebbe tornato presto. Poi Giancarlo mette il guinzaglio al suo cane e se ne va senza pagare. Pietro resta inerme, a terra, confuso e dolorante. Quella stessa sera sua moglie lo accompagna a San Camillo. Ha qualche costo la rotta, ma non racconta nulla. Si vergogna, non tanto per la violenza fisica subita, ma per quella psicologica. Essere il bamboccio di un prepotente lo imbarazza terribilmente, racconta dunque di essere caduto con la sua moto. È una sera di maggio del 1988, quando il mancino avvisa Pietro. Il pugile è a corto di soldi, ma è in astinenza e non si sarebbe arreso facilmente. Gira avanti e indietro con la sua Giulietta bianca, con gli occhi sgranati, perlustra gli angoli bui di Via della Magliana. Poco tempo dopo, inchioda la sua macchina sotto l'androne di un palazzo. Lascia le chiavi nel cruscotto, perché sa che la gente lo teme. Nessuno avrebbe mai avuto il coraggio di rubargli l'auto. Si avvicina a Strafottente, in quanto riconosce due corrieri del quartiere portuense. Chiede loro della merce, dicendo che solo in futuro avrebbe pagato. Ovviamente i corrieri gli rispondono che se non avesse avuto soldi, loro non gli avrebbero dato nulla. Quindi, come suo solito, il pugile decide di usare le mani. Li pesta, gli ruba la merce e tutti i soldi che avevano guadagnato durante la serata. I due corrieri, che sono fratelli, però non gliela fanno passare liscia. Lo aspettano poco distante dalla toilettatura di Pietro, la mattina seguente. Pietro sente un gran chiasso mentre tosa il barboncino di un'anziana signora. Esce dal negozio e vede il pugile a terra. Lo hanno gambizzato. La cosa avrebbe potuto concludersi così, e invece il pugile decide di denunciare i due fratelli corrieri. Dopo qualche mese di carcere, tornano alla Magliana, e tutto riprende come al solito. Amici come prima, insomma. In quel quartiere, però, il pugile è anche considerato un idolo. Si ferma con la sua bimota davanti al bar e si lascia circondare dai ragazzini che lo venerano quasi fosse il boss della Magliana. Nel suo palazzo c'è addirittura chi lo considera un giustiziere che punisce e che disturba i suoi amici, recupera l'aria furtiva dalle amiche della madre. Eppure, allo stesso tempo, anche lui commette furti, ogni tanto fa il corriere, è un prepotente e spesso e volentieri riferisce dei nomi alla polizia per non finire nei guai. Si ripresenta al negozio di Pietro dopo un mese dal pestaggio e ovviamente non ha abbandonato l'idea di fare un buco nella parete della toilettatura per accedere al locale accanto. Gli dice che avrebbe colpito il sabato stesso. Pietro ha molta paura, quindi lo asseconda. Non vuole che la sua famiglia venga coinvolta, dunque la stessa sera provoca un litigio con Paola e fa in modo che lei e la figlia valgano da alcuni parenti a Frosinone. In seguito dalle chiavi del negozio al pugile e la notte del furto raggiunge la sua famiglia con la scusa di riappacificarsi con loro, così da crearsi un alibi. Torna alla Magliana il giorno dopo. Pietro ha fatto pace con sua moglie, così si presentano insieme al negozio. Pietro finge di non sapere nulla quel proprietario del negozio accanto, che è insieme alla polizia, ma prova un enorme senso di colpa che gli si legge in faccia. Non ottiene mai dal pugile la sua parte del bottino, così come pattuito in precedenza. A causa di quel furto, il suo rapporto con la moglie inizia a incrinarsi in quanto viene accusato della rapina e si prende la colpa senza fiatare. Così finisce dietro le sbarre per dieci mesi. Finito di scontare la pena, esce e va alla ricerca del pugile per avere la parte che gli spetta. Ovviamente, come da copione, quest'ultimo gli dice una bugia. La merce gli è stata rubata. Pietro arriva a supplicarlo, gli servono soldi per pagare l'avvocato, perché sistemare quella storia è l'unica maniera per ricostruire il rapporto con sua moglie. A questo punto il pugile gli dice che, se vuole raccimolare dei soldi, dovrebbe far lavorare le donne che ha in casa. Perché non le manda in strada a mettere in giro la merce? Per la prima volta Pietro scatta e è arrabbiato perché il pugile ha nominato la sua famiglia. Afferra una catena grande, quella che usa per legare i molossi. È pesante, la rote ha sulla sua testa nell'intento di colpirlo al volto, ma il pugile riesce a bloccarlo con un solo braccio, mentre con l'altro colpisce Pietro così forte che sul momento pensa di morire. Una volta a terra lo colpisce di nuovo, più volte, poi se ne va, lasciandolo di nuovo a terra nel suo negozio. Pietro si sente debole e stupido. Ha il viso schiacciato sul pavimento, sente il puzzo dell'orina dei cani impauriti. Dopo questo avvenimento, Pietro non vede il pugile per un lungo periodo. Sembra essersi volatilizzato. La sua attività si riprende, è l'unica toilettatura della zona e uno dei pochi negozi di Via della Magliana. Paga regolarmente affitto e bollette. La questione del furto, come ovvio che sia, ha allontanato il proprietario, ma fortunatamente il contratto d'affitto è intestato a sua moglie, quindi non vengono cacciati. Pietro ricorda quel periodo come il più bello della sua vita. Lavora molto, tutta la Magliana porta i cani nel suo negozio. Paola lo aiuta spesso, soprattutto in primavera e in estate. Poi d'inverno il lavoro cala, ma loro, a questo punto, hanno già accumulato i soldi per gli affitti dei mesi invernali, quindi riescono ad arrangiarsi per sopravvivere. Pietro chiude con qualsiasi attività illegale e riesce anche a tenere a bada il suo vizietto, la voglia di polverina. La assume di rado i momenti di debolezza in quei giorni in cui il lavoro diminuisce o ha necessità di un diversivo, ma non la consuma frequentemente, come in passato. Paola dal canto suo non scopre mai quel vizio che suo marito coltiva nella retrobottega del suo negozio. Anzi, Paola è fiera di lui perché lavora sodo, riesce a guadagnare e la situazione finaliscia senza il pugile nei paraggi. Pietro così si concede di comprare un nuovo stereo che mette nella tua lettatura, dato che in quel luogo trascorre gran parte delle sue giornate e talvolta anche la sera quando il lavoro è troppo e rimane arretrato. A questo punto, Pietro decide di prendere un cane, una femmina di schnauzzer che chiama Jesse. Sua figlia la ama e lo va a trovare spesso visto che Jesse sta tutto il giorno con Pietro nel negozio. Acquista anche una nuova moto a rate. Con il primo caldo avrebbe portato la bambina al mare. In famiglia si attende con impazienza l'arrivo della primavera così avrebbero potuto sfrecciare sull'autostrada per l'aeroporto verso Fiumicino. Ostia! Purtroppo le cose non vanno come Pietro spera. Sono trascorsi diversi mesi quando il pugile entra nel suo negozio. Con un sorriso beffardo come se non fosse successo nulla gli chiede in prestito 100.000 lire. La paura si impossessa di nuovo di Pietro non gli domanda perché fosse andato a chiedere dei soldi proprio a lui piuttosto dice la prima cosa che gli viene in mente. Non possiede quella cifra ha i soldi per l'affitto e 50.000 lire che sarebbero servite a campare nei giorni seguenti. Il pugile comincia a minacciarlo lo obbliga ad aprire il portafoglio e si accorge che in uno scompartimento nascosto ha 400.000 lire il guadagno di quasi due settimane di duro lavoro. Sono soldi che Pietro ha messo via per pagare il proprietario del negozio. Pietro prova a spiegare le sue difficoltà il fatto che col proprietario non può più sbagliare se non avesse pagato in tempo lo avrebbe cacciato. Al pugile però non frega niente delle difficoltà di Pietro gli dà un pugno in faccia e prende le 100.000 lire. Non contento si allontana minacciandolo perché lo ha imbrogliato e per questo ogni settimana Pietro avrebbe dovuto pagare una tangente di 100.000 lire. Pietro si ritrova immerso nel medesimo incubo che pensava di aver superato il pugile si presenta ogni settimana. Spesso utilizza retrobottega per far uso della polverina e Pietro sempre per paura si lascia trasportare e ne fa uso anche lui. Questa situazione continua ad andare avanti per oltre tre mesi ed è così che Pietro perde l'equilibrio che aveva raggiunto con tanta fatica. intanto la moglie inizia a capire che qualcosa non va Pietro paga in ritardo l'affitto la notte preso dai deliri del consumo della merce non riesce a dormire è sempre nervoso inclina al litigio alla fine Pietro si fa forza e una sera consegna al pugile le 100.000 lire dicendogli che sarebbe stata l'ultima volta non riesce più a pagare quella tangente la situazione ormai da tempo sta insospettendo sua moglie la quale gli aveva intimato di voler parlare con la polizia questa volta il pugile sembra aver capito non sarebbe più andato al negozio ma se Pietro avesse avvisato le guardie lo avrebbe eliminato passano un paio di notti quando qualcuno forza la serranda della toilettatura rubano i dischi di Pietro un televisore e una telecamera professionale che neanche ha finito di pagare Pietro sa benissimo che il colpevole è il pugile ma non vuole affrontarlo ormai sa bene quali sono gli epiloghi delle loro discussioni quell'ennesimo periodo di difficoltà rovina definitivamente il rapporto tra Pietro e Paola litigano ogni giorno Pietro ormai fa uso della polverina quotidianamente perché gli dà coraggio e lo aiuta a riempire le giornate piene di brutti pensieri la merce lo allontana ancora di più dalla sua famiglia lo rende irrascibile solitario fino ad arrivare alla separazione Pietro così si adatta a vivere nella toilettatura in una stanzetta che ricava nel retro del negozio in cui mette un letto e un piccolo armadio pensa che quella soluzione non sia così lontana dalla sua vita quotidiana evita solo di tornare a casa a dormire la separazione allontana Pietro anche da sua figlia nonostante vada a prenderla ogni giorno a scuola e la porti sempre con sé al negozio torna all'inverno e con esso la mancanza di lavoro si fa più pressante che mai Pietro fatica a pagare l'affitto non solo per questo ma anche perché il suo vizio costa parecchio e l'assenza di Paola e del suo occhio vigile sui conti cominciano a farsi sentire arriva Natale quell'anno nevica alla Magliana la gente scende in piazza felice mentre Pietro non ha neanche i soldi per comprare un regalino di Natale a sua figlia Pietro a questo punto riprende con i furti talvolta va fino a Monteverde lì non lo conosce nessuno le macchine sono più appetibili perché appartengono a piccoli borghesi Pietro passa anche sotto casa del pugile pensando che lui sia proprio un ragazzo fortunato rispetto a lui e Paola lui e sua moglie si sono costruiti un futuro da soli senza aiuto senza una famiglia a supportarli mentre Vincenzina la madre del pugile gli aveva acquistato una casa in un gran bel quartiere Pietro sta armeggiando sotto il cruscotto di una tipo è la prima volta che ha a che fare con quell'auto è un nuovo modello della Fiat ha avuto la fortuna di aver trovato lo sportello aperto quei modelli hanno la chiusura centralizzata e forse non sarebbe stato in grado di forzarla con la stessa facilità con cui scassenava i modelli precedenti anche i cavi sono collocati in maniera diversa Pietro sta ancora mettendo a fuoco l'esatta posizione della massa quando gli cade tra le gambe un pacchetto nascosto sotto il cruscotto lo apre e dentro l'involucro di cartone ne trova un altro trasparente contenente della polvere e un bilancino il quantitativo è ingente quindi raccoglie tutto solo infila negli slip poi corre via spedito evitando di farsi notare entra al San Camillo dall'ingresso principale e desce dalla parte opposta attraverso uno dei piccoli cancelli secondari arriva al suo negozio a notte fonda ci va a piedi perché non vuole essere notato quindi non sale sul bus 97 che in quelle ore riaccompagna la magliana tutte le persone che lavorano a trastevere nei ristoranti e nei locali notturni Pietro appena arrivato in negozio prova la sostanza e si rende conto che quella è davvero merce di qualità purissima così passa tutta la notte nel retro bottega a intrattenersi con la sua polverina pensando al fatto che il giorno seguente sarebbe diventato ricco d'altronde ha appena trovato un etto di polverina per di più fuori dalla sua zona nessuno avrebbe potuto rivendicarne la proprietà Pietro ora si sente forte e sicuro la mattina seguente non apre il negozio lascia la serranda abbassata e passa l'intera giornata a fantasticare su come avrebbe potuto trarre profitto dal tesoro rubato la notte precedente Pietro però è un consumatore non un corriere quindi fa degli errori grossolani divide il pacco in due più piccoli nasconde circa 70 grammi in un buco nel muro e altri 30 in una cavità nella stanza dove tiene le gabbie per i cani nei giorni seguenti però si rende conto che il contenuto del pacchetto più piccolo è da buttare perché si era bagnato a causa dell'umidità così inizia a prestare attenzione alla sua nuova attività stipa l'altro pacchetto in una confezione di riso come gli aveva consigliato il mancino con la bilancia inizia a dividerla in bustine in seguito impara anche ad allungarla comprando del mannitolo dal farmacista per poche lire lo cuoce e lo aggiunge alla merce inizia così a vendere prima ad alcuni clienti del negozio con cui è in confidenza e con cui qualche volta aveva consumato la merce poi però la voce si sparge inizia un via vai che finalmente fa sentire Pietro importante e accettato da tutto il quartiere in poco più di un mese riesce a pagare tutti gli arretrati le bollette l'assicurazione della moto compra uno stereo nuovo e altri dischi la vita sembra essere tornata a sorridergli non pensa a cosa avrebbe fatto quando la merce sarebbe finita pensa solo al presente ad alimentare il suo vizio e le sue tasche poi ecco che un giorno ritorna il pugile e con la scusa di lavare il cane inizia a fare domande a Pietro aveva parlato col mancino e quest'ultimo gli aveva detto che Pietro non era più passato in bisca che molti avevano smesso di rifornirsi da lui perché la merce del canaro era così buona che alla magliana non si era mai vista Pietro sul momento nega ma il pugile minaccia di mandargli le guardie quindi alla fine consente a vendergli la merce che il pugile paga regolarmente da quella mattina si reca metodicamente in negozio per comprare la merce paga come tutti gli altri e questo fa ben sperare Pietro pensa che sia cambiato che abbia messo da parte quell'atteggiamento da prepotente ogni tanto consumano anche la merce insieme come se fossero vecchi amici a Pietro va bene perché in questo modo può rabbonirlo dopo un mese in cui frequenta quotidianamente il negozio di tua lettatura Giancarlo o se il pugile si presenta mentre Pietro è con sua figlia e il pugile sa bene quali sono le condizioni in quel negozio non ci deve entrare se vede che Pietro è con sua figlia così taglia corto gli dice che la merce è finita e che quel suo via vai non può più continuare di tutta risposta il pugile gli molla uno schiaffone davanti a sua figlia Pietro a questo punto si arrabbia da morire il pugile non doveva permettersi di farlo l'uomo quindi realizza che il pugile non era affatto cambiato anzi continuava a non avere alcun rispetto della sua persona era un infame che avrebbe attentato per sempre alla sua serenità e a quella della sua famiglia dopo quel ceffone il pugile gli promette che non sarebbe più andato al negozio a patto che gli avesse dato la merce per l'ultima volta Pietro accetta per toglierselo dai piedi il prima possibile ha intenzione di spostare le ultime 30 bustine che gli aveva preparato quelle sono le ultime rimaste poco dopo Pietro esce per incontrare una ragazza che sta frequentando quando lo vede di nuovo al semaforo il pugile si avvicina alla sua moto e gli chiede altra merce dicendogli che avrebbe pagato alla consegna Pietro rifiuta ma il pugile inizia a prenderla a male parole con tono minaccioso in mezzo alla strada Pietro quindi decide di assecondarlo per l'ultima volta gli dà appuntamento proprio a quel semaforo mezz'ora dopo Pietro passa più volte vicino al semaforo è sempre stato puntuale ma il pugile non si vede quindi decide di andare al bar a bere una birra mentre sta bevendo la seconda birra vede il pugile passare a tutta velocità con la sua Giulietta lungo via della Magliana nel verso opposto al suo negozio un presentimento si forma nella testa di Pietro che lascia la birra sul bancone e corre al negozio quando arriva nota immediatamente che la porta era stata forzata entrando si accorge che il suo amato cane è stato tramortito Jesse sanguina dalla testa e dalla bocca ebbene Jesse aveva partorito da poco quindi Pietro immagina che nonostante fosse una cagnolina buonissima per difendere la sua cucciolata avesse tentato di mordere chi aveva forzato la porta e quest'ultimo l'aveva letteralmente presa a mazzate vedere il suo cane ridotto in quello stato fa andare fuori di testa Pietro ama quel cane lo ama molto anche sua figlia e in un certo senso tiene unito il loro rapporto Pietro non ha alcun dubbio è stato il pugile sente il sangue salirli alla testa carezza Jesse per capire quanto grave sia il suo stato mentre si guarda intorno il negozio è tutto sotto sopra mentre Pietro cerca di rimettere in ordine si rende conto che alcuni elementi del suo stereo dei telecomandi e una rice trasmittente sono spariti qui capisce che questo è stato un gesto di sfregio è sicuro che il colpevole è il pugile Pietro è agitato e la merce che aveva assunto qualche ora prima lo rende ancora più rabbioso vuole vendicarsi vuole vendicare Jesse che non riesce neanche a stare in piedi in equilibrio cade sui suoi cuccioli Pietro si avvicina a Jesse e si rende conto che ha i battiti cardiaci più accelerati di lui è terrorizzata e non riesce a calmarsi quindi lei inietta una fiala di Valium per farla dormire e permetterle di riprendersi Pietro inizia a pensare che di certo le cose sono andate in questo modo il pugile o non lo aveva trevato al semaforo o neanche si era presentato perché non aveva soldi quindi sapendo che Pietro non era in negozio aveva forzato la serratura ed è rientrato alla ricerca spasmodica della sua amata polverina aveva tramortito il cane e messo a suo quadro il negozio per cercare la merce senza portare rispetto per quell'animale per i suoi cuccioli per Pietro e per la sua attività inoltre neanche aveva trovato nulla perché Pietro la poca merce che gli era rimasta l'aveva portata con sé così incazzato come una iena si era dato allo scempio portando via all'osterio e facendo tutti quei danni Pietro è infuriato cammina avanti e indietro in cerca di una soluzione che riesca a placare il suo stato d'animo così apre una delle sue bustine e assume della merce poi ne assume ancora la sensazione di sollievo è mediata così fa uso della merce per tutta la notte fumando una sigaretta dopo l'altra è su di giri Pietro non riesce più a ragionare i suoi pensieri si accartocciano arrivando a un'unica tragica soluzione la vendetta decide così di riposare sperando di calmarsi così va nel retro del suo negozio si stende sul letto e si rende conto che è completamente bagnato il pugile gli ha fatto un ennesimo sfregio Pietro trema di rabbia riprende a usare la sostanza avrebbe voluto averlo lì davanti a lui avrebbe voluto sbranarlo vendicare la sua cagnolina a Jesse Pietro dà un'occhiata al suo cane per vedere se è tutto sotto controllo poi si lascia cadere sul piccolo divano della sala d'attesa quella notte non chiude occhio passa tutto il tempo a riflettere è vero il pugile gli fa paura ma lui è molto più intelligente se avesse usato bene la sua furbizia avrebbe potuto abbatterlo ormai quel ragazzo è diventato un intralcio per Pietro che non vive più serenamente forse fin dalla prima volta che l'ha incontrato a questo punto sappiate che vi racconterò l'omicidio dal punto di vista di Pietro vediamo come l'ha vissuto lui cosa crede di aver fatto Pietro riprende a far uso della merce all'alba sa che il pugile sarebbe ritornato il richiamo della polverina le accomuna e lui sarebbe stato lì ad aspettarlo sente il bisogno di uscire dal negozio per prendere aria da prima immerge la testa nel lavabo e si lava poi esce va a fare il pieno di nafta e porta con sé una tanica che fa riempire di altra benzina compra dello spago e due spruzzatori nuovi in un negozio vicino rientrando incrocia il gommista che lo avvisa di aver visto il pugile gli aveva detto che a breve sarebbe ritornato Pietro così entra in negozio e inizia a misurare la lunghezza dello spago intanto il pugile incontra in piazza un certo Fabio lui non usa la polvere bianca ma quella più pesante la peggiore e ci siamo capiti infatti Fabio è soprannominato il tossico il pugile gli chiede di fargli compagnia e di prestargli dei soldi perché ha bisogno di merce Fabio però non ha soldi così il pugile chiede a chiunque reputa abbia del denaro da prestargli nessuno accetta di prestargli quel denaro lo conoscono bene e sanno che non glielo avrebbe mai restituito così con Fabio torna a casa sua a Monteverde dove abita anche sua sorella e lì riesce a procurarsi dei soldi poi si dirige verso la tue lettatura poco dopo le due del poveriggio si fermano con la macchina poco prima della rientranza che da via della Magliana porta all'ingresso del negozio di tue lettatura il pugile lascia Fabio in macchina poi dopo un'ora Fabio fa per uscire dal veicolo ma Pietro è uscito al suo negozio e gli va incontro dicendo che il pugile aveva premeditato e attuato una rapina nel suo negozio che era andata a buon fine il pugile era infatti scappato e sarebbe sicuramente ritornato a casa quindi Fabio può recarsi sotto casa sua liberatosi di Fabio Pietro può iniziare il suo lavoro lo dice lui stesso quindi ve lo ripeto anche io Pietro è fuori come gli agricoltori quando raccolgono i pomodori la merce assunta si è sommata a quella della notte precedente e Pietro sente di avere una forza sovrumana vede così il pugile dirigersi verso la porta del suo negozio e capisce che quella è la resa dei conti gli va incontro sull'uscio il pugile si avvicina e gli pone amichevolmente il braccio attorno alle spalle proprio in quel momento inizia la sua recita gli dice che stava arrivando il corriere che era solito rifornirlo sta aspettando un etto di merce purissima se lo avessero rapinato avrebbero potuto far uso della merce tutta la notte e ci avrebbero anche guadagnato un bel po' Pietro vede gli occhi del pugile illuminarsi come quelli di un bambino la mattina di Natale alla vista dei tanti regali sotto l'albero ci casca in pieno ora considerando che ho trovato tutto il memoriale che Pietro ha scritto quando è stato arrestato credo sia davvero interessante leggerlo per voi Pietro quindi scrive sono perfettamente cosciente del mio macabro delitto ma nello stesso tempo sono qui per assumermi tutte le responsabilità che fin d'ora ne conseguono riguardo la mia sorte mi sono già messo l'anima in pace capisco che questa è la mia ultima cazzata ho 32 anni non sono uno stinco di santo ma sono leale e onesto ho un gran rispetto di me stesso e rispetto tutti coloro che mi circondano ma pretendo di essere rispettato io sono un lavoratore ho la fortuna di avere le mani d'oro ho una memoria fotografica mi basta vedere una qualsiasi cosa una volta e io già la terza volta riesco a farla meglio di chi me l'ha mostrata ho dato tutto me stesso per gli altri sempre non ho mai chiesto nulla in cambio quando mi circondo di gente felice io godo sono felice anch'io anche se non ho soldi era una mia libidine far sì che gli altri dovevano a me non io a loro tutti dico tutti coloro che mi conoscono con me hanno sempre guadagnato in qualche modo il mio intento era ad aprirmi un'attività mia dove nessuno potesse dirmi cosa o che fare io dovevo volevo essere il padrone dopo breve tempo riuscivo nel mio intento aprivo il mio lavaggio per cani proprio in questa circostanza vengo a conoscere questo ricci Giancarlo che mi si presentò con la scusa di lavare il cane a questo punto arriviamo al delitto non è corto ma credo sia importante leggerlo prima però devo darvi un avviso per quanto Pietro non sia uno scrittore infatti non azzecca le doppie scrive in dialetto romanesco anche quando descrive un'azione è riuscito a creare una descrizione del delitto molto visiva lo dico per chi non ha lo stomaco forte saltate questa parte vi segnalo qui sotto il minutaggio a cui potrete saltare per continuare la visione del video in tranquillità non è utile al caso sapere cosa ha scritto il canaro è utile dal punto di vista psicologico a mio avviso inoltre secondo me a questo delitto in particolare più di altri riesce a far capire a chi ascolta che effetto può fare su un individuo una sostanza come la coca un'ultima cosa ci sono delle vere e proprie frasi pronunciate in dialetto romanesco quindi romani all'ascolto non tiratemi troppi pomodori io sono piemontese sono pure nata in provincia di Milano abbiate pietà di me e scusatemi in anticipo detto questo possiamo proseguire rammento che all'alba ho l'idea per punire l'infame se sfrutto il mio cervello alla forza di quell'essere immondo posso riuscire ad avere giustizia e già mi viene l'idea buona se io lo avessi con una scusa portato qui senza che potesse avvertire il mio scopo doppio nessuno e niente potevano farmelo scappare vado con la mia auto a fare nafta e nel frattempo mi faccio riempire la tanica di benzina compro due spruzzatori nuovi e torno al negozio il meccanico mi dice che mi ha cercato Giancarlo ossia il pugile trovo un rotolo di spago per legare quel bastardo è sufficiente penso mi sentivo che poteva tornare da un momento all'altro e solo all'idea le gambe mi tremavano tutte nonostante tutta quella merce avevo una paura fottuta vado nel vicolo e vedo entrare Giancarlo con la sua auto pensa si è superfluo descrivere la descrizione mia intrinseca lui scende spavaldo e ponendomi amichevolmente il braccio intorno alle spalle mi porta verso il negozio gli dico che sta arrivando colui che mi porta la merce e dato che ne avevo ordinato un etto facendogli una rapina avremmo pippato gratis per tutta la sera notai nei suoi disgustosi occhi accendersi tutti gli speciali come in un flipper era mio ormai pensavo soddisfatto dieci minuti più tardi io avevo già preparato la corda per legargli le mani che non vedevo l'ora di frantumare continuavo ad assumere sempre più merce come nel film Scarface con Al Pacino faccio entrare Giancarlo nella gabbia dove asciuga i cani perché era l'unico posto dove non avrebbe mai guardato il corriere convinto dopo avergli detto che l'avrei fatto uscire al momento opportuno entrò chiusi subito col passante la gabbia esortandolo a stare zitto e immobile ora non sapevo più che dovessi fargli chiuso tutto il negozio ho chiuso i due piccoli raglio per coprire un'eventuale sua reazione prendo la tannica di benzina ne verso i 5 litri dentro la condotta dell'aria della gabbia sono tutta una vibrazione lui mi dice a pie ma hai frascicato tutto ma che è benzina? no sto polendo il condotto dell'aria gli rispondo avverto dal suo tono di voce chi ha capito la situazione e lo sento pecora non ho più il tremore alle gambe afferro lo spruzzatore già pronto e comincio a spruzzargli benzina in faccia attraverso la rettina della gabbia e li dico con tono cattivo coatto avvelenato ah infame allora è vero che sei infame lui subito più fracchia che mai mi esorta a farlo uscire per andare a prendermi la roba rubatami mi sento un leone non ho più paura di lui fremo dal desiderio di massacrarlo di botte lui supplica la mia pietà pentendosi di averlo fatto so che fa parte della sua tattica aspetto un mio errore per sventrarmi di botte tengo più duro che mai e continuo a spruzzargli con rabbia la benzina in faccia strillandogli di stare zitto che dovevo pensare non sapevo da dove cominciare allora vado a fare uso e tornato da lui gli dico a pezzo di merda prepotente del cazzo ora dammi tutto soldi oro perché ora sono io il prepotente brutto infame lui mi asseconda passandomi sotto la gabbia al portafogli ora mi sentivo un dio forte e cattivo non avevo più paura dell'ossessione di quel meschino bastardo all'interno trovo le mie 100.000 lire e oltre i documenti la merce che gli avevo dato dieci minuti prima per invogliarlo gli dico brutto sacco di merda avessito a festa con tono cattivo e più deciso che mai questa me la uso io alla faccia tua guardami bastardo e gli rispruzzo in faccia la benzina mi sentivo alto tre metri grosso come una casa furioso più che mai gli dico di tirar fuori una mano e mentre passivo gli infilo il cappio della corda al polso e lo aggancio al muro lui con furia la strappa con un secco colpo all'indietro io rimango allibito dalla forza con cui strappa quella fune avverto paura cerco di non perdere tempo afferro lo spruzzatore fingo disingultura ma continuo ad avere paura cristo penso allibito mosso cazzi mia lui è ancora incastrato nello sportello aperto della gabbia ancora rincoglionito dalle inalazioni della benzina quando alzo gli occhi vedo sulla lampada sopra la porta il bastone che tengo per difendermi dagli attacchi dei cani matti prontamente lo afferro e comincio a sferrare potentissimi colpi sul collo facendolo cascare per terra sfrutto quei momenti per legargli i polsi uno al muro e l'altro sul piede della gamba sento che prova a strillare potrebbero sentirlo penso e gli infilo la cannuccia dello spruzzatore in bocca e comincio a fargli il pieno comincio a insultarlo a pugile di merda la moto scoperto è il segreto della tua forza pezzo di merda ti piace la super coglione ma te faccio er pieno ha un fame frascico ora il suo volume di voce è diventato molto più basso e rauco ma vicino inchinato al suo viso di merda e sarcasticamente gli sussurro che dice ha un fame ora l'hai capito chi sono io e ci riveli a rompermi il cazzo rispondi bestia e gli sferro col bastone tanti e ripetuti colpi sulle mani si contorce tutto ma non sento da avere pena nonostante capisco quanto male potessi avergli provocato sfogato lo lascio fra le sue sofferenze e vi garantisco che ne provava parecchie mi comincerà a sorgere duemila ma se poi dovesse raccontare tutto ci andrei carcerato e se poi dovesse tornare come ci farebbe frullati misti torno da lui pronto a spaccargli le ossa quando lo vedo inerme a terra con tutte le mani gonfie mi fa pena prendo un paio di forbici e lo selego quando faccio per controllare i danni fatti gli mi sento afferrare il collo con quelle mani che io ritenevo già rotte terrorizzato dall'inaspettata azione scatto liberandomi e riafferro il bastone comincio a colpire con una fredda cattiveria ero stanco esausto ma mi sorprendeva la sua resistenza fisica mi inchino su di lui e gli chiedo ora hai capito chi sono io che dici bastardo fai ancora il bullo è pezzo di merda straccia lui te nace più che mai ribatte questa volta me la paghi a quella frase scatto come una molla a chiapo il bastone comincio a fracassargli le rotule delle gambe con una furia scatenata da ira paura esasperazione e con tutta la forza che avevo colpivo colpo su colpo sempre negli stessi punti non curante delle sue contorsioni per il dolore e quando le ritengo spappolate completamente le rotule continuo su tutto il corpo non ce la facevo più a picchiare ero distrutto esco per respirare un po' d'aria pulita rientro nel negozio butto giù la serranda e comincio a preparare la coperta per portarlo via avevo deciso di metterlo in piazza con un bel cartello sul petto con la scritta questa è la conclusione delle sue malefatte a voi il grande pugile avevo scritto con il pennarello grosso su un cartoncino 60x80 giallo colore dei ruffiani infami e col pennarello rosso creavo un contrasto carino che potesse risaltare quella larva umana lo trascino da una parte e comincio a pulire la stanza da quel fettore di benzina lo lasciai perdere per un'ora circa il tempo di rassettare il negozio quando noto che Jesse la mia cagna ringhia verso Giancarlo allora incuriosito riprendo Giancarlo e gli dico cosa avesse fatto al cane per farlo infuriare l'ho sdrumata amazzate quella caga cazzi non aveva nonostante tutto perso la sua sarcastica arroganza mi risento il cuore a 2500 gli occhi fuori uscire dalle orbite sto esplodendo vorrei fare uno strillo disumano ma riprendo in mano il bastone e come un forsennato comincio a colpirlo fino a quando mi si rompe il bastone gli divarico le gambe acchiappo la sua testa per i capelli e comincio a strillargli di chiedere scusa al mio cane mentre continuo imperterrito a sbattergli la testa per terra lo lascio e comincio a parlare da solo dicendo Cristo questo mostro non merita pietà deve morire bastardo io t'ammazzo brutto infame se t'ammazzo l'urido verbo e devi morire non sei degno di vivere sei un mostro mi fai schifo ti odio dal più profondo dell'anima sei il mio incubo capisco che sto cominciando a impazzire devo riflettere Cristo non posso capire la sua psiche al di là della realtà sto impazzendo comincio a pensare seriamente che merita solo di morire devo riflettere vado in camera e dopo aver fatto uso di nuovo ritorno alla carica Giancarlo che ti è successo sei caluto dalla moto no risponde è stato il canaro istintivamente volevo saltargli addosso e strapparlo a mozzichi ma non ne avevo più la forza allora mi sono messo seduto a fargli domande tipo è vero che hai fatto carcerare tanta gente e lui giù nomi su nomi mi ha imbrigato di nomi e continuava ad escrivermi le sue gesta infami e come aggredisse le coppiette appartate nel buio gli leva tutto e se dovesse capitare che un anello non le viene via lui senza problemi le taglia il dito non sento più stanchezza salto su come una molla e comincio a cercare in mezzo alle chiavi e trovo una tronchesina gli salto addosso afferrandogli la mano con una freddezza disumana gli taglio il pollice mentre comincio sarcasticamente a dirgli ha un fame cosa provi mentre ti taglio il dito bastardo cazzo ho sbagliato dito e prendo l'indice e dopo averglielo tagliato esclamo cazzo ho sbagliato mano e afferro quell'altra facendo altrettanto ho il sangue agli occhi non sopporto più di vedere davanti a me quell'essere assurdo ancora ora stento a credere l'assurdità di quel mostro vi vado in camera a fare uso non voglio vedere quel demente e continuo a parlare a voce alta da solo come i matti cristo mi ripetevo che cazzo ci devo fare con questo bastardo maledetto da dio decito di rischiare buttandolo con quel cartello in piazza vado in bagno per sistemarmi un po' quando lo sento vorbottare qualcosa mi avvicino e dico Giancarlo chi t'ha fatto lo scempio? e lui nessuno ma dai che me lo puoi dire sono tuo amico e lui Ercanaro afferrato il bastone ho finito di romperglielo sulle labbra spaccandogli tutti i denti e con sarcastica calma gli chiedo a Giancar chi è stato? e lui con due rabbroni gonfi e sanguinanti nessuno ormai sono le otto il cartello il suo giubbotto tutti i documenti con i relativi brandelli del portafoglio metto tutto pronto da portare insieme a quel pezzo di merda torno al lavaggio per trascinarla alla macchina quando sento che farfuglia qualcosa ma avvicino e dice aspetta che mi rimetto t'affetto tutta tua figlia poi tocca a te lo afferro per i capelli lo riporto dove sono le gabbie ho ripreso le forbici in mano senza peta alcuna comincio a tagliargli le orecchie con sarcasmo gli dico così intendi affettarmi la figlia a stronzo bastardo così e gli taglio il naso così pezzo di merda vuoi uno specchio oh è quasi delizioso aspetta dove vai stai fermo hai labbra troppo sporgenti non trovi e gli taglio pure quelle Cristo è orrendo perde sangue da tutte le parti non deve morire sarebbe troppo comodo e lo spruzzo in faccia di benzina senza sentire alcuna pietà lo accendo forse spera di morire ma non gli do questa soddisfazione prendo la doccia della vasca a mo' di pompiere e lo spengo il sangue si è fermato è incredibile non sviene neppure non può più fare del male a nessuno ma io ho ancora paura di lui una persona normale con tutto quello che gli avevo fatto sarebbe morta cazzo non posso guardarlo mi fa proprio schifo è troppo assurdo non c'è logica in quel mostro non è mai svenuto una volta malgrado gli ultimi sfregi in faccia torno su di lui cazzo è morto mi inchino per sentire i battiti cardiaci quando improvvisamente si drizza con tutta la parte superiore rimanendo seduto con le gambe dritte ecco secondo me qui il buon canaro si è creato un bel falso ricordo dubito che una persona ridotta in questo stato possa drizzarsi con tutta la parte superiore comunque procediamo mi fa perdere l'equilibrio casco col culo per terra in mezzo al sangue mischiato all'acqua mi convinco sempre di più che questo non è un essere umano è uno zombie mi ha scioccato mi fa paura toccarlo è ancora seduto e mi fissa con odio sento che far foglia è assurdo parla ancora ma il grado non avesse più le labbra io ne dubito ma procediamo comunque riafferro le forbici e sferratogli un calcio in faccia lo mando lungo voglio tagliargli la lingua non lo voglio più sentire lui stringe le gengive io torno tra i ferri e prendo il pappagallo con violenta forza finisco di fargli cascare quei denti davanti e col pappagallo gli afferro la lingua con le forbici e gliela mozzo ma come fai la spia infame lo guardo con odio mi fa schifo siete di vendetta voglio vederlo soffrire voglio farlo soffrire riprendo le forbici gli taglio i calzoni mettendolo a nudo prendo lo spruzzatore gli spruzzo i genitari e lo accendo poi lo spengo no bastardo non devi morire devi soffrire e comincio a spruzzargli la benzina dappertutto accendendolo e poi spegnendolo assurdo non svine neppure questo o è uno zombie o è un demonio dubito che questo sia successo davvero ripeto più inferocito che mai in fuori con le forbici gli taglio i genitali buttandoli insieme alle dita perde sangue e allora gli dico qui ci vuole un disinfettante e rispruzzo benzina sul resto dei suoi genitali a pezzo di merda e mo a chi la fai un'infamata capisci ora come si rompono i coglioni eh non risponde più mi sentivo cinico freddo senza pietà mi faceva solo schifo andai in camera aspettando che schiattasse anche perché non meritava di vivere è lì tutto smontato ma non si decide a morire mi convinco sempre di più che è uno zombie allora afferro il papagallo e forzate le gengive gli spingo tutto il suo pacchetto in bocca ora vediamo se sei uno zombie e me lo guardo con quei testicoli a penzuloni ai fianchi delle labbra continuo a parlargli mentre aspetto che schiatta dicendogli che se si fosse pettinato un po' sarebbe stato carino con quei pompon sono le 21 e 40 quando lo zombie non respira più ricordo che il pugile è entrato nel negozio alle 14 quindi secondo il canaro queste torture sono durate circa 7 ore non è così ma poi ci arriveremo quindi sono le 21 e 40 quando lo zombie non respira più mortacci tua er tempo che me fai perde mo si pure un ex zombie come se stessi facendo un pacco regalo con calma una gamba di qua una mano di là e uno zombie partirà era morto impacchettato e ancora ero carico di violenza afferro il martello e comincio a fracassargli la fronte per poi spruzzargli dentro lo shampoo per cani così ti sciacquo le idee bastardo noto le dita per terra e allora come se stessi prendendo delle caramelle con la disinvoltura più normale gliele ficco in bocca ma ripetutamente fuoriescono allora decido di collocarla nell'ano e vedo che ancora mi fissa che cazzo c'hai da guardare gli ficco il suo dito nell'occhio ma riesce allora gli faccio strada con una martellata e non esce più sentivo il desiderio di smontarlo di nuovo continuavo a parlargli e mi incazzavo perché era già morto e continuavo a infamarlo con sarcastiche ironie di tanto in tanto gli sferavo calci addosso nonostante sapevo della gravità del mio diabolico e violento gesto non mi curavo di sbarazzarmi del suo corpo e con assente disinvoltura mi spogliavo per una doccia di tanto in tanto pensavo che dovessi sbarazzarmi di lui non per il rischio che potevo correre se l'avessero scoperto ma per paura che la sua decomposizione potesse far puzza al mio negozio in cui oltretutto dormo senza neppure chiudere finestra o porta mi sdraio sul divano a fumare ero esausto ma non sentivo che la causa della mia stanchezza era di pesa dal macello fatto perché sentivo che non mi apparteneva come se lo avessi vissuto vedendo un film perciò era chiara la mia flemm dopo aver chiuso il negozio cominciò a girare con la mia macchina cercando di ragionare perché cominciavo a rendermi conto che non era un film era un omicidio mio e perciò dovevo solo liberarmi del cadavere di quello zombie per potermi rilassare giravo cercavo il posto più degno della sua vita vissuta fino a quando trovai una discarica di rifiuti felice di avergli trovato un alloggio corse al negozio per caricare l'ex zombie che non potete capire cosa ho sudato per poterlo caricare nel cofano della mia auto non so come non mi è venuta l'ernia mi dirigevo verso la discarica e arrivatoci a retromarcia apro il cofano e me lo tiro per terra per le caviglie in mezzo a tutta quella mondezza degna della sua persona verso tutta la tanica su quell'urido verme infame facendo un urlo sovrumano tiro su di lui lo scottex acceso facendo un falò alla grande rammento che non corsi via mi accesi una sigaretta e restai lì tutto il tempo di fumarla godevo della mia riuscita nell'aver sconfitto quell'assurdo essere andai via perché era un po' sfacciato a persistere a guardarlo ancora oggi sono convinto che lo rismonterei di nuovo non nego che sto a posto con la mia coscienza ritengo solo che chi ha conosciuto Enrici Giancarlo o chi ne ha subito il traggio possano capire il mio stato d'animo le emozioni che mi hanno portato al mio diabolico gesto arrivato a Trastevere mi prende un colpo quando mi rendo conto del giubbotto che mi ero scordato nel cofano allora l'oggetto su un bidone della mondezza tornai a dormire sonni tranquilli al negozio l'incubo era finalmente finito invece dovevo riscontrare che era appena cominciato ma hanno preso questo finale davvero a me ha creato per la prima volta ilarità anche se è una cosa brutta lo riconosco però ora parliamo di come l'hanno preso sono le 8 e 30 del 19 febbraio del 1988 e siamo a Roma Portuense nella zona della Magliana arriva una telefonata anonima alla centrale di polizia chi sta dall'altro capo della cornetta dice che devono recarsi in un terreno che sta vicino a via Belluzzo in zona Portuense quella è una discarica a cielo aperto i poliziotti si recano in quel campo e trovano un sacco nero fumante il suo contenuto sta bruciando gli inquirenti si avvicinano provano ad aprire il sacco per vedere cosa c'è dentro e si sentono male vomitano trovano infatti qualcosa che pare abbia delle sembianze umane ma in realtà non riescono neanche a capire del tutto se quello sia un corpo umano o un animale sul momento quella vittima è irriconoscibile quindi non riescono a capire di chi si tratti prima di fare l'autopsia successivamente grazie all'intervento della scientifica scoprono che era un essere umano la sua carne stava ancora bruciando grazie all'impronte digitale ci mettono poco a capire che quel corpo appartiene a un ragazzo sparito il giorno precedente ben presto un poliziotto amico di famiglia si dirige a casa della madre del pugile vincenzina per avvisarla della tragica notizia il grido della donna si solleva con un crescendo in via della magliana tutti sentono quella grida di dolore il medico legale analizza il corpo e stabilisce che il ragazzo doveva essere un giovane tra i 20 e i 30 anni ed era stato incaprettato era stato letteralmente torturato aveva subito diverse mutilazioni inizialmente si pensa che queste amputazioni fossero avvenute tutte premorte inoltre sono convinti che il movente dell'omicidio sia un regolamento di conti per il traffico di sostanze di stampo mafioso ma è rilevante la testimonianza di un amico di Giancarlo Ricci detto il pugile ossia Fabio Beltrano detto Fabio il tossico che l'aveva accompagnato in via della magliana ed era stato allontanato da Pietro De Negri con un pretesto questo porta all'arresto del canaro la polizia del verbale scrive il cadavere si rinviene sul terreno a metri dieci circa dall'accesso ed è stato adagiato al suolo con i glutei con le spalle rivolte verso la strada esso si presenterà annecchiato su se stesso con le braccia al di sotto delle gambe legate tra loro mediante varie spire di corda di canapa ed è riverso sul terreno con la parte anteriore da un primo esame esterno si può affermare che il corpo è stato trasportato sul posto già cadavere dato alle fiamme successivamente quasi tutta la superficie epidemica è interessata da lesioni con particolare accentuazione alla schiena agli arti superiori e inferiori ai glutei alla testa in tutte le zone interessate si evidenzia la carbonizzazione degli strati superficiali con ampi squarci della carne nel terreno sul punto in cui è stato adagiato il cadavere si osserva la presenza di sangue tale rinvenimento trova giustificazione nel fatto che tutte le amputazioni sono state verosimilmente eseguite in presenza di circolazione sanguigna e di battito cardiaco il cadavere presenta altresì adesso intorno alla testa residui combusti della corda e di un cappuccio intorno al corpo sul terreno si rinvengono numerosi pezzi di lenzuolo di colore bianco e di una coperta di colore celeste serviti per avvolgere il cadavere prima del trasporto sul luogo del ritrovamento Pietro De Negri viene prelevato dalla sua abitazione alle prime luci del mattino del 21 febbraio ha paura ma crede sia normale essere finito nella lista dei sospettati gli inquirenti stanno interrogando tutta la magliana viene interrogato a lungo dalla sezione omicidi della squadra mobile e come uno studentello ripete la sua lezioncina sulla rapina al corriere di sostanze la polizia sa benissimo che Pietro arrotonda vendendo la merce aveva un fascicolo intero sulla rapina alla boutique ora è in stato di fermo e il capo della squadra mobile lo avvisa che le chiacchiere stanno a zero un gruppo di suoi agenti aveva già interrogato Fabio l'amico di Giancarlo che aveva raccontato del loro incontro la toilettatura era l'ultimo posto dove il pugile era stato visto e ora la stavano già setacciando alla ricerca di tracce di sangue Pietro a questo punto ha il primo cedimento interiore l'insicurezza inizia a fargli tremare le gambe balbetta è spaventato d'altronde la merce sta allentando la sua morsa e Pietro è ormai sveglio da ben 48 ore lo interrogano per tutta la notte ma Pietro non molla gli porgono sempre le stesse domande aspettando un suo passo falso attendendo che si contraddica ma Pietro è bravo a sostenere la sua versione dei fatti a un certo punto il dirigente della squadra mobile si allontana per tornare poco dopo accompagnato da altri 5 uomini da questo momento parte un interrogatorio totalmente diverso da quello precedente Pietro scopre ben presto che l'uomo con i baffi che lo sta interrogando fa parte della squadra antirapina si chiama Antonio del Greco nel frattempo altri inquirenti erano appena rientrati dal sopralluogo nel negozio di toilettatura Antonio del Greco incalza Pietro insieme ai suoi colleghi lo circondano in piedi mentre lui rimane seduto il dialogo precedente si trasforma in un durissimo interrogatorio Antonio del Greco inizia chiedendo insomma che è successo col pugile Pietro continua a ripetere la sua versione dicendo l'ho già detto ai suoi colleghi e che palle aspettavamo sto corriere siciliano sempre imbottito di merce che ci doveva portare un etto il piano era che il pugile si doveva nascondere nel mio negozio io avrei fatto entrare il siciliano lui lo avrebbe aggredito alle spalle prendendo soldi e merce poi al siciliano avrei detto che non conoscevo il pugile ma invece Antonio del Greco si avvicina per poi dire invece cosa? è a questo punto che il canaro inizia a valbettare e invece quando il pugile è saltato fuori il siciliano è riuscito a reagire a difendersi facendolo scappare dalla finestra li ho visti scomparire così nel cortile dietro al mio negozio mentre si inseguivano come cane gatto io non so altro Antonio del Greco che stupido non è di certo si accende una sigaretta poi guarda Pietro per un minuto si gira verso il capo della mobile appena rientrato e dice lasciamolo perdere a questo è tempo perso questo coglione non ha fatto nulla basta guardarlo si caca sotto poi sbeffeggia Pietro che si incazza e perde il controllo Antonio del Greco insiste andiamo a cercare un uomo vero questo è una femminuccia del cazzo andiamo a cercare chi ha ucciso il pugile questo manco le scarpe gli allacciava è chiaro che questa è una tattica hanno capito il suo punto debole e lo stanno usando contro di lui si prendono gioco di Pietro di quello che era dell'ostacolo che il pugile aveva rappresentato quindi non riesce a contenersi sente la sua stessa voce cambiare è rauca e potente ed esclama quel pezzo di merda era un infame prepotente la magliana lo odiavano tutti usava sopprusi contro di me la mia famiglia il mio cane mi insultava mi sfotteva ma aveva rubato la radio la cosa che mi ha fatto uscire di testa è stata quando ha preso a calci il mio cane che c'entrava lui ho liberato il quartiere gli ho tagliato le palle e gliele ho infilate in gola gli ho staccato le dita una a una come si fa con gli infami controllate pure l'obitorio invece di ridere una gliel'ho messa nel di dietro due negli occhi dovevate sentire come strillava il grande pugile uno dei cinque poliziotti si allontana per verificare con la scientifica i particolari del suo racconto mentre al tonio del greco si sede davanti a Pietro che a questo punto continua a parlare e dice avevo lo spruzzino pieno di benzina gli spruzzavo in faccia per rincoglionirlo e riempirlo di botti urlava e bestemmiava così per farlo tacere gli ho aperto la bocca col pappagallo da idraulico e gli ho tagliato la lingua non volevo morisse volevo restituirgli tutta la sofferenza che mi aveva causato per questo col fuoco cauterizzavo le sue ferite volevo torinerlo in vita doveva soffrire gli ho staccato le palle e l'ho fatto femmina a lui che si sentiva tanto uomo gli ho tranciato le dita e il naso così la merce la tira su col cazzo gli ho appuntito le orecchie come si fa con i Doberman l'ho torturato per ore poi uscito a prendere aria ho incontrato Fabio un impiccione che non si fa mai cazzi suoi gli ho raccontato la storiella della rapina andate a vedere che cosa ho fatto al grande pugile l'ho smontato pezzo per pezzo e ci sono riuscito perché lui era più grosso ma io sono più intelligente tra un taglio e l'altro assumevo merce come un elefante gli ho scoperchiato la testa quello stronzo gli ho lavato il cervello con lo shampoo per cani lo shampoo dei cani per ripulirgli i pensieri lo shampoo dei cani per lavare via la sua infamità poi ho infilato il cadavere nel portabagagli della macchina e sono andato in una discarica del Portuense l'unico luogo degno di un essere immondo come lui sono arrivata alla discarica che era ancora notte ho buttato il corpo tra i rifiuti l'ho cosparso di benzina e gli ho dato fuoco non ho bruciato le dita volevo che tutti sapessero che fine aveva fatto il pugile poi però quando l'avete trovato mi sono reso conto che Fabio avrebbe potuto incastrarmi per questo sono andato con lui a casa del pugile e ho eseguito davanti a tutti la sceneggiata dello stereo ora mi metterete al gabbio ma vi assicuro che lui sta peggio Pietro ripete le stesse cose al magistrato che giunge poco dopo il quale convalida il fermo la sera stessa è così che la confessione del canaro fa il giro di tutti i giornali le sue parole vengono riportate sui quotidiani intanto la madre del pugile Vincenzina si sforza per raccontare la sua verità nonostante il dolore di aver perso un figlio Vincenzina dice 10 minuti alle 2 che fai bello di mamma viene a pranzo sì mamma metti giù la pasta che io adesso arrivo che è successo da Monteverde alla Magliana io sono ancora qui che aspetto mio figlio non è più tornato Vincenzina racconta di essersi affacciata più volte per vedere se c'era parcheggiata la macchina di suo figlio quindi era uscita era andata al bar poi alla visca del mancino in pizzeria addirittura nella palestra che il figlio non frequentava più da tempo per tutto il pomeriggio aveva percorso più volte via della Magliana ma di lui non c'era traccia era tornata a casa e a quel punto aveva visto la macchina parcheggiata davanti alla pizzeria ma nessuno l'aveva visto rientrare nessuno ci aveva parlato così Vincenzina chiama la figlia e rincominciano a girare insieme percorrendo oltre 100 km tra le strade le pozzanghere i palazzoni della Magliana il magistrato aveva assistito alla parte sostanziale del racconto di Pietro da cui aveva tratto le sue conclusioni le aveva già snocciolate nella conferenza stampa in cui i giornalisti chiedevano a gran voce il nome del colpevole la sua teoria e le sue dichiarazioni erano abbastanza semplici e lineari allontanava ogni presunzione di criminalità organizzata dall'omicidio fu la prima a sfatare il mito di una vendetta maturata in un ambiente di tipo mafioso non c'erano complici il colpevole era uno e le forze dell'ordine l'avevano già fermato il magistrato quindi dice i nostri uomini lo hanno interrogato a lungo era ancora sotto effetto di sostanze visibilmente su di giri ci ha raccontato particolari che solo l'artifice del delitto poteva conoscere aveva trascorsi criminali e un legame ambivalente con la vittima ai primi rilievi effettuati nel suo negozio e sui suoi abiti sono state riscontrate piccole tracce di sangue riconducibili alla vittima può essere stato solo lui perché nella confessione ha citato particolari di cui solo l'autore poteva essere a conoscenza stando che le agizie di stampa nulla al momento dell'interrogatorio avevano ancora detto delle mutilazioni alla lingua al naso labbra e orecchie perché lo stereo del colpevole è stato rinvenuto a casa della vittima perché abbiamo le dichiarazioni di un ragazzo Fabio che indicano il colpevole come l'ultima persona ad aver incontrato la vittima perché c'è una testa che dichiara di essersi affacciata da una finestra dello stabile dove è obdicata la tua lettatura e di aver chiesto al colpevole come mai ci fosse quell'insistente odore di benzina che saliva dal negozio ci apprestiamo a effettuare l'autopsia sul cadavere e un'approfondita analisi del luogo del delitto la prima settimana di carcere per Pietro è durissima inizia a scrivere il suo memoriale quello che già vi ho letto precedentemente e poi lo riportano alla tua lettatura una settimana dopo per un ennesimo sopralluogo arrivano sul luogo con un'auto della polizia e le sirene spiegate perché tutti sappiano che il colpevole è stato inchiodato e che ora si procede con le indagini tutta l'area è transennata con Pietro c'è Antonio del Greco gli agenti dell'antirapina e quelli della mobile con un'altra macchina giungono ben presto quelli della scientifica per ultima arriva un'alfa romeo bianca con a bordo il magistrato Antonio del Greco tiene il braccio di Pietro sfilano insieme davanti a numerosi giornalisti Pietro scopre successivamente che quel pomeriggio era presente anche Paola nei giorni precedenti infatti avevano interrogato pure lei e anche le sue parole erano finite sui quotidiani Paola ha dichiarato non può essere lui non sarebbe capace di un'atrucità del genere anche se ha improvvisi scatti di rabbia ed è nervoso persino aggressivo ma non è vendicativo è profondamente buono è sempre stato un padre dolcissimo non ha mai fatto mancare nulla alla figlia ci siamo divisi sei mesi fa e lui non è un tipo da mezze misure mi ha lasciato ed è andato a vivere nel negozio non ha neanche un amico ora mi dite che spacciava io non ci credo lui era contro la droga come è possibile che fingesse non so se qualche donna gli ha fatto girare la testa trasformandolo in un drogato e in uno spacciatore non ha mai amato il denaro ma le cose semplici se c'è qualcuno che è riuscito a cambiarlo così profondamente che arrestino lui lui è il colpevole nel frattempo Vincenzia la madre del pugile chiede a gran voce giustizia si ribella la dichiarazione del magistrato dice che non può essere stato Pietro definendolo un moscerino con la tosse a uccidere suo figlio vuole che inchiodino anche i complici Pietro legge più volte il verbale del sopralluogo del suo negozio in quella che i giornalisti chiamano bottega degli orrori gli sembra di vedere un brutto film di cui non si sente più protagonista il magistrato aveva disposto quel sopralluogo proprio per escludere definitivamente alcune parti della storia che Pietro le aveva raccontato e che riteneva fossero frutto di fantasia non intendeva solo chiarire i tempi in cui l'omicidio si era compiuto ma anche l'esatta dinamica non era convinta dell'ordine degli avvenimenti da lui proposto del fatto che avesse utilizzato la gabbia dei cani per bloccare il pugile il magistrato aveva solo una certezza il colpevole è Pietro De Negri Ercanaro aveva il movente aveva subito i soprusi e la mancata spartizione del bottino dopo il furto in boutique aveva le prove c'erano delle piccole gocce di sangue nella toilettatura sul muro che dava sul cortile e persino sulle sue scarpe ma soprattutto aveva la confessione di Pietro erano entrati nella toilettatura tutti insieme c'erano anche i suoi avvocati due fratelli appartenenti a una famiglia importante già dai tempi del regno d'Italia una famiglia di giornalisti deputati e principi del foro erano due fratelli che avevano trovato il loro giusto interesse nella sua storia la descrizione della toilettatura da parte degli inquirenti secondo Pietro era stata ingenerosa quindi gli inquirenti scrivono l'ambiente non è pulito tutt'altro entrando si hanno a destra le quattro gabbie che ospitano i cani e poi la vasca rettangolare in muratura dove veniva effettuata la toilettatura i piani sono cosparsi di flaconi bottiglie e prodotti la sala da lavoro è rettangolare con estensione longitudinale affaccia con una finestra sul cortile interno dello stabile detta finestra il cui davanzare dista centimetri novantotto dal pavimento è larga centimetri 205 e alta centimetri 130 è protetta internamente da due imposte di metallo con pannelli di vetro e maniglia a scatto scorrivoli su guide trasversali sotto la maniglia si nota un foro dal quale si inserisce un chiodo che funge da sicura esternamente nella parete sita sotto la finestra a centimetri 4 dal travertino che ricopre il davanzare si è rilevata una chiazza di sostanza ematica lunga centimetri 3 e larga millimetri 4 con l'arresto di pietro la ricerca del colpevole per l'omicidio della magliana è conclusa ora è tempo di fare le perizie eppure vincenzina non crede alle conclusioni tratte dal magistrato da antonio del greco e dagli altri inquirenti il suo racconto inizia sempre da quella pasta che diventa il simbolo di una perdita vuole descrivere un'umanità familiare ferita a morte l'umanità di un intero quartiere che si è suicidata in una discarica vincenzina dice mio figlio aveva molti amici litigava solo per aiutare gli altri una volta per aiutare un amico ne stese 4 quindi per ucciderlo ce ne sono voluti almeno 4 aveva problemi con questa droga maledetta come molti dei giovani qui nel quartiere ma io ho fatto di tutto per tirarlo fuori da quel giro gli stavo addosso gli avevo comprato una casa proprio per allontanarlo dalla magliana un periodo l'ho anche mandato in Sardegna per tenere lontano da questa città così pericolosa si doveva sposare ma poi ha lasciato quella brava ragazza perché si è rinvaglito di una ballerina di Domenica Inn ma davvero? vabbè io rimango allibita procediamo Ercanaro può aver fatto solo da esca per prendere mio figlio ce ne sono voluti almeno 4 o 5 tanto lo avevo tirato su forte e resistente Ercanaro si è accollato la colpa per tutti quello non avrebbe mai potuto mettere mio figlio nel bagagliaio della macchina da solo la polizia non ha fatto bene il suo dovere anche la storia che mio figlio ha partecipato al furto della boutica accanto alla tolettatura non è vera Vincenzina invece sì no è vero mi dispiace è proprio vera quella storia in molti hanno parlato di quella moto costosa con cui girava e che poi venne incendiata a Roma ce ne stavano solo tre e l'invidia è una brutta bestia quella moto ossia la bimoto se non mi sbaglio si chiamava così gliela comprai io per premiarlo di un periodo di lunga astinenza dovreste vedere come l'avevo rimesso su bene ho dovuto estinguere un prestito lunghissimo per pagare quella maledetta moto forse è tutta colpa mia gli sono stata troppo addosso e non è servito a nulla forse è tutta colpa mia che a mio figlio gli ho fatto le mani grosse Vincenzina non si arrende vuole la verità e la storia di Pietro non le basta per colmare la mancanza di un figlio che non è più tornato a casa il suo volto appare contrito al tg della sera giocherella con una medaglietta che tiene appesa il collo una medaglietta con una foto del pugile di suo figlio l'autopsia sul cadavere intanto dai primi risultati conferma che la morte del pugile era avvenuta circa 40 al massimo 50 minuti dopo il primo colpo alla testa non viene rinvenuta alcuna traccia di cauterizzazione la benzina non serve a cauterizzare nulla perché presto evapora niente prolungamento della vita dunque Pietro si era inventato tutto o meglio la merce aveva ingigantito tutto il medico legale dichiara che tutte le amputazioni erano state eseguite su un morto nessun segno di fratture o ecchimosi dovuto alle bastonate che Pietro diceva di avergli dato solo il cranio fracassato così dicevano che l'aveva ucciso con dei colpi ripetuti mediante un corpo contundente un buco di 13 centimetri in testa il pugile era morto così il magistrato quindi dichiara nel corso della confessione il colpevole si è sforzato con grande puntigliosità di essere il più preciso possibile nel descrivere nei minimi particolari la progressione delle mutilazioni lo scambio verbale tra vittime carnefice lo scempio del cadavere l'ansia di dire tutto non per liberarsi di un peso troppo grande ma per far capire a chi l'ascoltava che lui l'inoffensivo tu elettatore era stato il giustiziere della magliana di tutti quelli vessati dalle prepotenze del pugile l'intento traspare chiaro in ogni riga del suo memoriale gli avvocati di Pietro riescono a tenerlo a base nonostante la sua irrequietezza riescono a trovare un'opportunità in quella confusione in tutta quella merce in quei verbali nelle dichiarazioni di Pietro e in quelle degli inquirenti ha avuto pochi incontri con loro sono interessati al suo caso non alla sua persona gli dicono di starsene buono di non parlare di essere un detenuto modello Pietro quindi si chiude in se stesso e si comporta come gli hanno suggerito gli avvocati è un detenuto modello per oltre un anno mentre viene interrogato e analizzato dai migliori psichiatri d'Italia anche per quei periti è diventato un'occasione ghiotta per salire all'onore della cronaca quei mesi passano così tra gli sguardi sospettosi dei compagni di cella le lunghe letture dei verbali e gli incontri infiniti con i periti che lo vanno a trovare i giudici richiedono una perizia psichiatrica collegiale in vista del processo come consigliato dai suoi avvocati Pietro si dimostra partecipe ma fermo nel suo racconto un racconto che era già la sua confessione che quindi non aveva senso ritoccare la strada da percorrere per raggiungere l'obiettivo di Pietro era un'altra altra la strategia per cancellare il marchio indelebile dell'omicida la perizia alla fine conclude riportando conferma quanto narrato nel memoriale consegnato al magistrato non è pentito perché sa di stare nella ragione la sua vittima non aveva sembianze umane era un animale un serpente sia a posto con la propria coscienza se si uccide un serpente l'orientamento base della personalità del soggetto è narcisista e paranoide senza deliri con un'immagine negativa di sé che contrasta con fantasie di grandezza e potenza si definisce una mente eccellente che ricorda tutto organizza tutto ha inoltre reazioni impulsive talvolta violente con attrazione verso il pericolo di cui non valuta le conseguenze alterna fasi depressive e maniacali accentuate all'abuso di sostanza che dà sinenza psichica ma non fisica racconta la realtà per come l'ha vissuta nello stato all'ulcinatorio descrive la vittima come il ricettacolo di tutto il mare per semplificare il rapporto con essa per gestirlo all'inizio aveva una certa ammirazione poi la delusione dell'impossibilità di stabilire un'alleanza ha cambiato tutto non è solo paranoico nel senso di persecutorio ma anche portatore proprio perché è paranoico di deliri di grandezza in carcere legge libri di psicologia cibernetica ha più volte iniziato a scrivere un libro senza però mai portarlo a termine anche il contenuto di quelle pagine appare paranoide il suo è un tipo di disturbo che passa inosservato perché tale disturbo si manifesta solo in precise occasioni ma il suo rapporto con gli altri è distorto una distorsione latente che subisce improvvise evoluzioni e la sudditanza di tipo sadico che il soggetto porta dentro di sé è una di queste questo disturbo è stato complicato e accentuato dall'assunzione cronica della sostanza che lo ha slatentizzato è l'assunzione di cocaina che spiega la straordinaria efferatezza di questo crimine al momento del delitto il soggetto era totalmente incapace di intendere di volere a causa di un'intossicazione cronica quindi la perizia definisce Pietro come un matto incapace di intendere di volere quando i fratelli avvocati gli legano la perizia il supplemento di perizia Pietro scaraventa la sedia contro le sbarre lui non era matto sapeva perfettamente perché aveva ucciso il pugile anche quella volta Pietro non capisce immediatamente cosa sta accadendo gli avvocati di Pietro sorridono le parole dei periti certificano che la sua incapacità di intendere di volere al momento del delitto era stata causata da un'intossicazione cronica da sostanza questo lo descrive come un soggetto non socialmente pericoloso ma vittima dell'incrocio tra un lieve disturbo paranoide e abuso di sostanza un incrocio che gli ha dato la possibilità di rendersi conto delle sue azioni quello che era successo insomma non poteva più ripetersi gli avvocati si attaccano a quelle perizie alla certificata incapacità di intendere di volere chiedendo al giudice istruttore e poi al tribunale la libertà provvisoria gli annunciano che sarebbe stato scarcerato in attesa del processo e allora Pietro capisce è il 12 maggio del 1989 Pietro De Negri detto il canaro esce dal carcere suscitando clamore il cancello si apre Pietro avanza e si ritrova circondato da tantissimi giornalisti sembra un assalto e non riesce a vedere oltre i due metri di distanza è circondato da penne registratori e telecamere gli facevano mille domande così Pietro concede alcune dichiarazioni d'altro canto è felice la sua giustizia si era compiuta si limita a rilasciare piccole battute del tipo lasciatemi perdere so quello che fate con le mie dichiarazioni ho letto come le avete usate sui vostri quotidiani non sono né vittima né un carnefice ma solo un povero disgraziato che ha reagito alla prepotenza sotto l'effetto della sostanza e per questo non si è reso conto di quello che stava facendo questo non lo dico io lo dicono i periti e non sono periti pagati dal sottoscritto ma luminari incaricati dal magistrato hanno dichiarato che non sono socialmente pericoloso per questo oggi sono un uomo libero e questo maledetto incubo è finito adesso rincomincerò tutto da capo con mia moglie e la mia bambina Pietro si allontana dai giornalisti speranzoso di trovare lì Paola ma in realtà non c'è nessuno ad aspettarlo così si allontana per dirigersi verso una cabina vuole chiamare Paola e chiederle perché non si trovi lì intanto viene avvicinato da una macchina all'interno c'è una delle giornaliste che Pietro ha visto fuori dal carcere la donna gli offre un passaggio perché anche lei è diretta alla Magliana sale dunque su quella macchina senza pensare troppo alle conseguenze si abbandona sul sedile come disteso dopo un incontro di box partono quindi verso il sud della capitale e la giornalista come un serpente comincia ad avvolgerlo con il suo tono colloquiale delle sue domande quelle domande che si fanno per passare del tempo mentre si è in macchina insomma così Pietro cade nel suo tranello e si lascia trasportare dal racconto dice che lo rifarebbe dice che alla Magliana gli faranno un monumento perché lo considereranno un benefattore sostiene che ci saranno degli striscioni di benvenuto attaccati ai palazzi la mattina seguente un lungo articolo di prima pagina racconta della scarcerazione il titolo recita il canaro torna libero e dice lo rifarei ha lasciato il carcere dire Bibbia dopo 14 mesi perché la giustizia non ha ancora deciso la sua sorte quel lo rifarei è la vera e propria condanna di Pietro se avesse tenuto la bocca chiusa forse le cose non sarebbero andate così forse però se avesse di nuovo fatto uso di così tanta merce avrebbe potuto colpire di nuovo ovviamente il dubbio rimane in quel briciolo di libertà Pietro e Paola si ritrovano stanno insieme ma ben presto gli avvocati di Pietro si fanno sentire e gli dicono che quelle dichiarazioni gli sarebbero tornate contro come un boomerang il giorno seguente Vincenzino esprime tutta la sua rabbia quei giornalisti dopo aver pubblicato l'intervista di Pietro e averci ricamato sopra molte storie pensano bene di incontrare la madre del pugile per raccogliere anche la sua voce e lei non si è certo contenuta anzi sfida Pietro apertamente dice che avrebbe rappresentato lei la giustizia popolare dato che lo Stato non era in grado di fare la sua parte racconta che in quei giorni lo sta cercando per strada la Magliana che avrebbe voluto chiedergli di persona cosa avesse fatto a suo figlio fortunatamente Pietro non la incrocia mai non vuole affrontarla il volto di Vincenzina affianca il nome del canaro sulle pagine di cronaca la mia sfida è il canaro quei giornalisti sono stati in grado di trasformare la vicenda in un western raccontano di quella donna come di un cowboy vendicatore che con gli amici stretti del pugile lo cerca per finirlo Vincenzina dice io non voglio che quel verbe del canaro muoia sarebbe un atto di pietà deve vivere e capire la mostruosità che ha compiuto quel moscerino si sente un eroe solo perché una sentenza ingiusta lo ha rimesso in libertà se si sente tanto invincibile accetti la mia sfida sia coraggio venga in piazza alla magliana e ripeta le cose infamanti che ha detto su mio figlio guardandomi negli occhi davanti a tutto il quartiere me lo sogno di notte quel momento io e lui faccia faccia a mani nude queste parole cambiano immediatamente la prospettiva di Pietro ha paura di una ritorsione degli amici del pugile ha paura di Antonio del greco colui che l'aveva spinto a confessare lo vede più volte passare con la volante in via della magliana gli avvocati di Pietro non rispondono al telefono probabilmente attendono l'inevitabile mossa che di lì a poco avrebbero fatto gli inquirenti così Pietro si chiude in casa e continua a scrivere il suo libro si appunta le dichiarazioni di Vincenzina su dei fogli poi le rilegge a distanza di una settimana Pietro viene di nuovo arrestato dopo mezz'ora è in questura chiede di parlare con sua moglie gli permettono di fare una sola telefonata in cui Pietro le dice di stare tranquilla non sa il motivo di quel fermo deve avvisare gli avvocati che lo raggiungono circa un'ora dopo la pericolosità sociale dell'imputato scaturisce con estrema evidenza dalla gravità del reato e in particolare dalle modalità dell'azione criminosa dai mezzi usati dalla efferatezza manifestata dalle atroci e prolungate sofferenze cagionate alla vittima alla condotta susseguente all'omicidio spinto anche da quell'intervista dalle dichiarazioni di Vincenzina dall'opinione pubblica ma soprattutto dalle sollecitazioni del magistrato il giudice struttore ha infine deciso di non accettare la conclusione dei periti e di rigettare anche le conclusioni del pubblico ministero indica Pietro come socialmente pericoloso e parzialmente capace di intendere di volere al momento del delitto un freddo criminale in pratica lo rinvia giudizio per omicidio premeditato aggravato mandandolo nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino per un ricovero provvisorio in attesa del processo quella sera Vincenzina grida dalla sua piccola finestra che il canaro è tornato in carcere vuole che tutta la Magliana senta le sue parole Pietro passa sei mesi nell'ospedale psichiatrico quel luogo lo inquieta ma riconosce che è assai più vivibile dire Bibbia anche perché non è un vero e proprio carcere il processo contro il canaro si tiene il 22 maggio del 1990 tutta la discussione si concentra non sulla sua colpevolezza ma è incentrata sulla sua sanità mentale e sull'eventuale presenza di complici perché molti sono convinti che Pietro non abbia fatto tutto da solo il canaro rinuncia al dibattimento nonostante i suoi avvocati avessero cercato di convincerlo in tutti i modi ha paura di incontrare Vincenziena la madre del pugile ha paura delle sue parole della rabbia dei familiari e dell'opinione pubblica non vuole più offrirsi in pasto alla curiosità morbosa dei giornalisti alle loro parole false che erano state la causa principale della sua reclusione così manda una lettera al presidente della corte in cui spiega le ragioni della sua assenza Pietro quindi scrive mi sono messo l'animo in pace so che quello che ho fatto mi costerà più di 120 anni di carcere non voglio dare altre possibilità a giornalisti e televisioni che hanno già saputo dipingermi più nero del loro stesso inchiostro per questo avevo scritto e consegnato alcune pagine del mio libro del mio memoriale per cercare di ridimensionare la mia vicenda per spiegarmi il risultato è stato a dir poco deprimente strizza cervelli di ogni foggia mi hanno analizzato da cima a fondo trattandomi come un extraterrestre appena arrivato sulla terra non voglio incontrare quei magistrati che in barba le perizie non mi concedono né la libertà provvisoria né gli arresti domiciliari contravvenendo ogni forma di giustizia per il solo sospetto di una mia pericolosità sociale per non parlare poi della quasi certa presenza in aula della madre del padre dei fratelli e sorelle della vittima nonché dei parenti e se gli erano rimasti degli amici non si fanno certo scappare questa ghiotta occasione per mettere in scena chissà quale macchiavellica sceneggiatura nei miei confronti o in alternativa nei confronti di mia moglie senza contare poi i giornalisti che come avvolto gli attendono ansiosi questo giorno per rigettarsi a capofitto su questo insolito redditizio caso questi sono i veri motivi per cui non presenzierò il processo del resto tutto ciò che avevo da dire l'ho già detto più volte e anche scritto in primo grado gli psichiatri sono costretti a fare un'altra perizia perché non riescono a giungere a una conclusione la perizia è pronta nel giugno del 1990 gli psichiatri hanno concluso che Pietro ha agito durante un vizio parziale di mente quindi è punibile in primo grado Pietro viene condannato a 15 anni per l'omicidio e a 5 anni per spaccio in secondo grado la situazione peggiora aggiungono l'aggravante della premeditazione e viene condannato a 27 anni di reclusione in Cassazione il 2 aprile del 1993 gli viene ridotta la pena a 24 anni questa è la sentenza definitiva il Canaro però in carcere ci sta solo 16 anni perché è un ottimo detenuto aiuta le persone straniere a compilare i moduli fa del volontariato si è sempre comportato bene sconta gli ultimi anni ai domiciliari trova un lavoro come uscere per uno studio di avvocati e non rilascia alcuna intervista vuole essere dimenticato dice più volte ai giornalisti ho pagato il mio debito con la giustizia voglio essere dimenticato torna a casa da sua moglie e sua figlia e invia a Andersen al quartaccio ha 65 anni ma non so assolutamente nulla della sua vita attuale perché non ha più rilasciato davvero alcuna intervista ha rifiutato parecchie ospitate televisive anche se avrebbe guadagnato dei soldi partecipandovi per Canaro vuole essere dimenticato anche se il suo terribile crimine non può sparire dalle pagine di cronaca della capitale questo caso mi ha colpita molto perché in realtà Pietro era un uomo tranquillo non inclina la violenza era mite eppure è stato in grado di commettere uno degli omicidi più tremendi della storia italiana detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo lunghissimo video vi ringrazio se siete rimasti con me fino alla fine immagino che conoscevate la storia del Canaro ma la conoscevate così bene così approfondita fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti come al solito io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che comunque continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.